Mia nonna Ebe aveva una sorella gemella di nome Bianca, è morta molto giovane, si è suicidata. Tua nonna mi sembrava abbastanza strana. Invece? C'era un filo rosso per terra. Sembra essere più di là che di qua. In questa casa le porte non hanno la chiave. E se tua nonna sapesse qualcosa? E se tu frenassi con la fantasia? Sofia! Abbiamo sbagliato tutto.